Il sindaco Giuseppe Casagrande Siamo ormai nella parte finale della stagione estiva, forse si riesce già a fare un po', a tracciare un po' un bilancio, a capire un po' anche com'è andata anche a Pieve di Cadore. Proprio in questi giorni abbiamo avuto modo di confrontarci un po' con gli operatori turistici di Pieve di Cadore e mi pare che la somma, il totale parli positivo. C'è stata una bella stagione estiva con tanta gente presente, tanti turisti, tanti villeggianti che hanno le seconde case sul territorio del comune di Pieve di Cadore. Loro sono contenti e se loro sono contenti io non posso non esserlo. E devo dire come testimone di aver visto veramente un via vai, non dico frenetico, ma effervescente sulla piazza di Pieve di Cadore durante questi mesi estivi. E quindi insomma è stata un'estate di nuovo forse di normalità, forse avete anche avuto l'occasione di fare qualche evento un po' più facilmente. Sì, è stato un'estate di normalità, detto bene, perché dopo tanta clausura finalmente si sono potute organizzare anche delle manifestazioni in Piazza Tiziano, nelle piazze e nei paesi delle frazioni di Pieve di Cadore. Manifestazioni le abbiamo organizzate parecchie. Per esempio il mese di agosto è tornato ad essere il mese casa degli alpini. L'Alpini è iniziato con i cento anni della festa per i cento anni della sezione Ana Cadore e si è concluso con l'ormai tradizionale raduno dell'associazione dei veci del Cadore, quindi tutto all'insegna degli alpini. La prima festa ha raggruppato tutti gli alpini dei gruppi dell'Ana del Cadore e l'ultima festa, quella di pochi giorni fa, ha messo insieme, ha richiamato da tutta Italia i commilitoni, cioè tutti quelli che hanno fatto il servizio militare nelle caserme di Pieve e di Tai. Sono state due bellissime feste che sono state apprezzate moltissimo non solo dagli alpini, non solo dalla gente di Pieve di Cadore, ma anche da tanti turisti che sono convenuti per queste feste. In queste occasioni, tra l'altro, per la prima volta è stata celebrata la messa in Piazza Tiziano e anche questo ha arricchito in qualche modo il senso di partecipazione a queste feste. Ecco, i turisti poi d'estate arrivano, girano per i sentieri, purtroppo capita anche che debbano rivolgersi alla sanità, no? E nel vostro territorio c'è stata, nel vostro comune c'è stata un'inaugurazione molto importante che è quella della nuova base dell'elisoccorso. La base EMS nuova è stata inaugurata, ahimè, non è entrata in funzione subito perché, l'ha detto chiaramente la direttrice dell'Ulss 1 Dolomiti, la dottoressa Carraro, non erano ancora completate le operazioni per rendere possibile in sicurezza il volo, quindi abbiamo dovuto aspettare ancora qualche giorno, ma adesso è entrato in funzione regolarmente e i dati che sono stati pubblicati anche dai mezzi di comunicazione, sono stati raccontati anche da Telebelluno, testimoniano in qualche modo che è entrata in pieno servizio l'elicottero del SUEM. Quest'anno poi l'elicottero di Pieve di Cadore, chiamiamolo così, è stato rafforzato con un altro elicottero per l'emergenza di stanza a Cortina, quindi il servizio per le emergenze è stato garantito in maniera ottimale quest'anno, in maniera ottimale e noi ne siamo orgogliosi, anche se dobbiamo rendersi conto che l'elicottero non è il toccasana per la salute, per la sanità in montagna. In montagna serve ben altro per considerarci alla pari di chi abita vicino al policlinico di Padova o vicino all'ospedale di Treviso. Noi abbiamo bisogno di avere una certa sicurezza, oltre che per l'emergenza, anche per i servizi. Abbiamo bisogno di un poliambulatorio che ci consenta di fare delle visite a Pieve di Cadore, anziché prendere la macchina e venire a Belluno, per esempio, o andare in altri ospedali del Veneto. Ecco, questo chiediamo noi, la garanzia di avere 24 ore su 24 un'assistenza sanitaria che è dignitosa e sufficiente a farci vivere tranquilli in montagna. Ecco, naturalmente l'elicottero copre la parte dell'emergenza urgenza, poi ci sono le emergenze, per cui l'elicottero non serve, sono emergenze di altro tipo. Quest'estate abbiamo visto l'emergenza siccità. Quindi volevo capire a Pieve di Cadore quanto l'avete sentita e qual è lo stato delle reti. Ecco, noi abbiamo una situazione che è paragonabile, sovrappunibile alle situazioni varie che si trovano in giro per la provincia di Belluno, che non è una situazione ottimale, diciamolo subito. Lo dice, lo ribadisce, lo sottolinea sempre il GSP BIM, che noi abbiamo una rete idrica con la brodo. Noi perdiamo gran parte dell'acqua per strada ed è una situazione precaria che deve farci riflettere. Durante l'estate noi non abbiamo avuto problemi. Per esempio abbiamo chiuso le fontane pubbliche e quindi è stato un modo responsabile di rispondere a situazioni di crisi idrica molto ma molto più gravi, tipo quella dell'Alpago, e abbiamo cercato di, come dire, dar l'esempio cercando di non sprecare acqua. Per quanto riguarda specificatamente il nostro comune, noi abbiamo due fonti che ci portano acqua potabile. Una arriva dall'Antelao e va bene. Una arriva, si chiama, le tubature che arrivano dall'Anfela, che arrivano dalla zona degli spalti di Toro, a sud dell'abitato di Pieve e sopra l'abitato di Sottocastello. E là, purtroppo, non è che sia ottimale queste prese, perché sono state fatte tanti anni fa. Sono, non dico precarie, ma avrebbero bisogno di interventi. Sono interventi che costano milioni e milioni. Speriamo che vada ancora bene per un po' di tempo, fin tanto che non riusciremo insieme all'autorità di vaccino a mettere in programma degli interventi che possono garantirci per il futuro. Ecco, non ha piovuto moltissimo, diciamo, almeno nella prima parte di quest'estate. Poi in passato, invece, ci ricordiamo delle bombe d'acqua, anche se il termine non è molto scientifico, veramente eccezionali, a volte anche accompagnati da un vento incredibile. E questo è il caso di Vaia. Lo sappiamo, in tutti i comuni della nostra provincia Vaia ha fatto dei danni e alcuni danni sono ancora in fase di, diciamo, riparazione. Da voi? Da noi. Il primo bilancio è positivo, perché noi siamo stati, intanto siamo stati il primo comune a dotarci di commissario su disposizione del commissario regionale. Io ho assunto il ruolo di commissario per quanto riguarda il territorio del comune i piedi di Cadore per primo, ma non per farle gare, perché mi sono trovato in questa situazione. E devo dire che i lavori sono iniziati subito, siamo rimasti contenti di quello che abbiamo fatto, perché siamo riusciti a raccogliere il 75-80% di tutti gli schianti causati da Vaia. L'abbiamo fatto fin da subito, quindi grazie anche alle ditte di boscaioli che siamo riusciti a precettare, in qualche modo a trovare subito sul mercato per fare questi interventi. Abbiamo cercato di mettere assieme i privati, mettere assieme anche le regole che abbiamo, noi abbiamo tre regole nel comune di Pieve di Cadore, hanno lavorato insieme e hanno lavorato veramente bene. Ci sono alcuni danni, alcuni interventi che non siamo riusciti ancora a chiudere. Per tanti motivi. Abbiamo avuto dei finanziamenti e cammin facendo ci siamo resi conto tutti insieme, non soltanto a Pieve, ma in giro per la provincia di Belluno, per il Veneto, che quei preventivi di spesa non rispondevano alle esigenze di un aumento stratosferico dei costi imposti dal mercato. Quindi noi ci siamo trovati a indire dei bandi che sono andati deserti perché gli imprenditori, le imprese che si erano rese disponibili a partecipare per eseguire questi lavori non l'hanno più fatto perché sono resi conto che ci avrebbero rimesso. Allora noi abbiamo alcuni cantieri che faticano ad andare avanti proprio per questi motivi, perché stiamo adesso studiando un adeguamento dei prezzi sperando di riuscire a trovare le risorse per poter rispondere a queste esigenze. Ci dispiace, ci dispiace perché il rischio è quello di perdere dei soldi da una parte e il rischio di andare per le lunghe a finire, a terminare, a concludere alcuni interventi che si renderebbero necessari per la gestione della montagna in modo particolare e per la convivenza nostra perché ci sono alcune situazioni, alcune strade simbopastorali che meriterebbero di essere finite subito per consentire l'ascesa verso pascoli e colli e boschi e non siamo riusciti a farlo. Ci sono altri lavori che state portando avanti indipendentemente diciamo dal pacchetto VAIA? Noi abbiamo in elaborazione un master plan cambiamolo così che è un termine rindondante un master plan per quanto riguarda l'area scolastica abbiamo dato l'incarico ad uno studio professionale stato studiando degli interventi proprio per mettere in sicurezza una parte dei nostri edifici scolastici che non sono ancora stati messi in sicurezza in questi anni altri sì invece e per mettere in sicurezza l'area circostante di modo che diventi un'area protetta per i ragazzi che vanno alle scuole elementari e alle scuole medie di modo che non ci sia il pericolo che finiscono sotto qualche macchina dal momento che sono prospicenti al parcheggio più grande che abbiamo noi a Pieve di Cadore che è quello vicino al museo dell'occhiale da una parte e all'ex pretura dall'altra. Ecco questo è il progetto più grosso che abbiamo in programma. Poi abbiamo tanti piccoli interventi che sono piccoli sogni che ci portiamo a presso sperando almeno di iniziare per lasciarlo in eredità alla prossima amministrazione. Ecco parliamo appunto delle prospettive allora a breve termine diciamo le prossime settimane prossimi mesi dove forse dovremo fare tutti dei conti anche sotto il punto di vista delle spese energetiche e poi una prospettiva un po' più ampia. Noi a breve anzi abbiamo già iniziato a calcolare come possiamo star dentro al nostro bilancio per quanto riguarda le spese energetiche e la considerazione che mi sento di fare è quella sarà dura avremmo bisogno veramente di ridimensionare le nostre spese in questo senso attraverso delle economie che passano per l'illuminazione pubblica per il riscaldamento per alcuni servizi che noi abbiamo in essere da sempre in comune e sarà dura perché non è che possiamo risparmiare sul riscaldamento per i ragazzini che vanno alla scuola materna non è che possiamo risparmiare spegnendo le luci su alcune tratti di strada che poi la si verificherebbe la mancanza di sicurezza per quanto riguarda la viabilità quindi diciamo che non me la sento di esprimere o di declinare una ricetta per risparmiare dico soltanto che stiamo lavorando veramente per arrivare a questo ma le bollette pesanti le avete già viste però le bollette pesanti le abbiamo già viste hanno superato il raddoppio nel mese anche nei mesi in cui non 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 c'era il consumo massimo abbiamo avuto delle esagerazioni di esagerazioni c'erano consumi reali però per noi esagerazioni dal momento che tanto per fare un esempio noi abbiamo il forte di Montericco messo a disposizione del mondo della cultura quest'anno ha ospitato la Biennale d'Arte Dolomiti e poi una collettiva d'arte del circolo Morales di Belluno e della provincia di Belluno e in un mese abbiamo visto più che raddoppiata la bolletta ecco cosa dobbiamo fare? eliminiamo gli spazi culturali? ecco questi casi sono interrogativi che ci stanno assillando in queste settimane e poi magari dà anche un po' fastidio a pagare di più la bolletta della luce con l'elettricità che viene prodotta diciamo per un buon 40% dal gas e poi avete l'impianto enorme di produzione idroelettrica esatto a un chilometro dal centro dal centro di piede però questa è l'impostazione l'impostazione l'organizzazione energetica italiana dobbiamo rispettarla per quello che è non è che possiamo mettersi e incatenarci sulla diga del lago di centro Cadore grazie per essere stato con noi grazie a voi grazie e quindi grazie ai nostri telespettatori per averci seguiti buona continuazione grazie a tutti